Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video Oggi andremo a vedere appunto uno scontro tra Iwan e Darak, i due dei della distruzione tra i più potenti Questo è l'inizio della nuova serie dove voi potrete richiedere gli scontri Questa settimana ormai gli scontri sono fatti ma dalla settimana prossima inizierò facendo degli scontri da voi suggeriti Detto questo ragazzi vi consiglio di commentare qui sotto con gli scontri che volete E se lo scontro coinvolge delle mod di linkarmi le mod Detto questo io vi invito a lasciare un mi piace, a commentare i video e condividerlo con i vostri amici E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi lascio al video Bella Ciao a tutti 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 Ciao a tutti